È il giorno del gran rifiuto. Il presidente del tribunale di Isernia, Enzo Di Giacomo, ha gettato definitivamente la spugna. Non sarà lui il candidato alla presidenza della regione molise per il centrodestra. Dopo giorni di appelli a suo favore, distinguo e qualche voce fuori dal coro, ma soprattutto davanti ad un quadro politico enigmatico e insidioso, il magistrato ha sciolto la riserva e ha detto no. Anzi, ha confermato un no che aveva già manifestato un paio di settimane fa quando con una nota stringata aveva fatto un primo passo indietro. Adesso il passo è definitivo. Una decisione è quella del magistrato Isernino che rende il quadro politico ancora più confuso e magmatico. Che ci si trovi davanti alla più grande e sgangherata ressa politica della storia molisana è un dato di fatto. Nel centrosinistra è fallito il tentativo di dialogo tra Olivo 2.0 e il PD. L'incontro tra il deputato uscente Danilo Leva e il segretario regionale del Partito Democratico ha prodotto una fumata non nera ma nerissima. Gli emissari del PD, Fanelli, Facciolla ed un sempreverde Antonio Dalete, hanno formulato tre proposte per la candidatura alla presidenza della regione. I nomi portati al tavolo sono quelli di Michele De Santi, sex assessore comunale a Campobasso, quello della preside dell'istituto Pilla, Rossella Gianfagna, e quello del sindaco di Castel del Giudice, Lino Gentile. Dall'altra parte, Leva, delegato alla trattativa per le liste di Olivo 2.0, ha opposto un secco no, chiedendo una discontinuità più ampia e generale anche rispetto a tutto il gruppo di potere che in questi anni ha mantenuto in sella Frattura. Quest'ultimo è stato convocato a Roma insieme all'altra deputata uscente, Laura Venitelli, e dalla segretaria Fanelli per arrivare ad una via d'uscita. All'incontro è stato invitato anche Roberto Ruta, la cui presenza nella capitale è però da escludere. Anzi, il no pronunciato dalleva al tavolo col PD e sintetizzato in un comunicato stampa al vetriolo, spalanca la strada proprio a lui, all'ex senatore, che solo qualche giorno fa aveva fatto il suo passo di lato in favore di Antonio Di Pietro, che pareva essere diventato il punto di sintesi del centrosinistra. Adesso di passo ne farà uno in avanti. Quanto al centrodestra, la coordinatrice regionale neodeputata Anna Elsa Tartaglione, ha annunciato la convocazione ad oras del tavolo di coalizione, con l'obiettivo in 48 ore di rendere noto il nome del candidato alla presidenza. Le ipotesi che al momento circolano sono quelle dell'ex presidente della provincia, Rosario De Matteis, e della sindacalista della Will, Tecla Boccardo. In definitiva, per dirla con Bartali, è tutto sbagliato, è tutto da rifare, salvo per i 5 stelle che hanno già definito candidato presidente e lista. Quanto a frattura vale quanto scritto da Franco Califano sulla propria tomba. Non escludo il ritorno.